Ben tornati o benvenuti al mio canale Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete Vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram Tu hai il link qui sotto E qui vi saranno apparsi i miei profili social Come ho detto dal titolo Oggi farò una night routine Sono ridubbante Perché inizio questo video Non la sera Perché sennò verrebbe un video di 5 minuti Dato che finisco i compiti Mangio, mi lavo i denti, mi petto i capelli E vado a dormire Quindi ho deciso di fare una specie di vlog Diciamo del mio pomeriggio Insieme ovviamente alla night routine Adesso sono le 14.30 E tra una mezz'oretta circa Andrò a prendere la mia amica Perché usciamo insieme oggi Non so ancora che facciamo Visto che lo decidiamo sempre all'ultimo minuto E niente Ho già i programmi per dopo Voglio preparare un dolce Così me lo mangio a merenda Ok, non è vero Non partirò più tra mezz'ora Ma tra dieci minuti Quindi Andiamo Io non so che gli ha preso Sto fotocamera davvero Comunque io volevo Un minimo Riprendermi i boccoli Ma non ho proprio il tempo materiale Di farlo Visto che Già dovrei Scendere Scendere Mi stavo dimenticando la mascherina Come Chiunque Devo andare Perché sono in ritardo Ciao Eccola Cinca amici Vediamo la mostra Scusa Io vorrei anche riprendere fuori Ma Non voglio che voi sappiate Dove io Viva Ma facevi aspettarmi Rimani dietro Eccolo È partita Sì Mi la prende quella Ciao Io ho un'offerta Adesso gli dico il codice Quale offrezza è? Quella del test di basket Ok Ti dico il codice? Sì 1, 9, 3 Sì 7, 7, 1 Prezza, te lo faccio? Bajonese e barbecue Un'altra maionese 3 chicken burger 3 Allora se è tutto L'ultimo ascolto allo 10 e 20, grazie Va bene, grazie Ciao, grazie Grazie a te Madonna Senti che profumo Preparatevi a 2 minuti e 26 secondi di puro trash mentre insceniamo una specie di mukbang Maggiorno un mattarellino Ma che salsa è? Ma è sciopa Ma è una bestia Gigante Questa come sono? Alette Sono buone Adesso capisco perché le mangio tanto io Ma i cari Io sono sempre più buone comunque Comunque non sono molto aggraziata quando mangio Ma manco io, ma guarda che faccia Ma pizzica Ma ancora l'acqua abbiamo preso Eccolo Ma che c'era messo il peperoncino qua sopra Questo direi che è da dagli ali amici Il mondo di internet non verrà mai conoscenza di queste cose Asmer Stai buttando via il nettare degli dei Direttora Non ci credo che è un pollo Ha le ali così piccole Pollo Però non è pollo, capito? Sai che pollo è? È pollo ai polletti È un polletto gigante È pollo ma non è pollo Parcchetta di cipolla Ciao Ciao Ma guarda qua parcchetta Guarda come va Via, guarda qua Ma poi non c'è mia Ma adesso non è rosso gli scogli Oddio Oddio Che paura È spogata là E vuoi dire? Ho vista là Ma non la vedo più E vuoi dire? Ma anche il fidanzato tu te porta a mangiar mecca al mare Via Vai vai E sta a batteria Allora Allora sono appena tornata a casa E adesso metterò a caricare la fotografia Perché mi si è completamente spenta Ecco Perché è quasi del tutto scarica E nel mentre Guarderò la volta di buoni e donne Che oggi ho saltato Perché sono uscita Adesso mi preparerò Per andare a dormire Una mezza specie Cioè mi metto il pigiama E mi strucco Ho messo il pigiama Ma Non mi sono struccata prima E Infatti Ho sporcato la maglietta Ok Visto che l'inquadratura è alquanto penosa E soprattutto Sto andando avanti e indietro Quindi vedete un po' di qua Un po' di qua Un po' di qua Vi faccio direttamente vedere La fine Tanto Utilizzo questa ricetta Seguo benedetta Perché io L'adoro L'amo Tutte le ricette vengono buonissime Quindi ti dà Dopo E ne voglio assaggiare metà A provarla Potevo metterci anche più mele in realtà Io non so voi Ma Adoro Masterchef Non lo so Ci perdo le ore A guardare gli episodi Quelli Vecchi Delle stagioni Tipo Terza Quarta La terza la guardo Perché Cioè La cita mi fa ammazzare Dalle risate Proprio È un meme vivente Secondo me quella donna Però davvero Cioè Mi scuso Per la luce Come puoi Cioè Potevo semplicemente Far così Ma era troppo difficile Per me ovviamente Ho acceso al volo Il flash del telefono Perché non mi alzerò mai Ad accendere la luce Comunque stavo dicendo E Adesso Guarderò questo episodio Ma Che poi non è vero Perché Accendo la televisione Come sottofondo Perché salgo un po' al telefono Vedere chi mi ha scritto Su Instagram Whatsapp Eccetera E il mio amico Dovrebbe richiamarmi Ma La vedo difficile Perché non mi richiamo mai Alberto Caussi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.